Venite qui? Ma ciao! No, 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 non ho frecce. Come non ho detto? Mamma mia! Raga, sta per iniziare un'altra partita. Spero di aver fatto un po' di tagli perché in effetti non è stato un gran che era l'ultima. Però abbiamo vinto. E il nucleo l'ho rotto io l'ultimo. Ok, rompiamo. La freccia lanciata da questo arco non appena vengono a contatto. Con qualcosa esplodono in un buco nero. Ok, nemici! Venite qui! Ma ciao! No, 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 non ho frecce. Come non ho detto? Mamma mia! Madonna! Voi non capite! Dico Dio alla loro base! Dite addio alla vostra base! Oddio! Che figo! Perché non ho beccato quando c'erano loro, però? S.O.S. No, un po' più in là e c'erano loro! Non ce l'ho fatta. Aiuto! No, non di nuovo! Non è possibile ragazzi, non è possibile. Comunque vi ricordo sempre di lasciare un bel... che se non avete lasciato un bel pollicione in su... TERRORISTA! No, la witch! Mamma mia! No! Ma perché? Mi fate questo? Perché mi fate questo? Un altro Lucky Bow? Ma proviamo un posto, Lucky Bow! Oh! L'ho ucciso, raga! No, 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 no! No, la witch ce l'ha con me adesso! Ma dai l... Ok, muori! Muori all'inferno! Vai! Grande la spada! I! Grande la spada! I! Scusate se interrompo il video, ma volevo solo dirvi un paio di cose. Ovvero, uno, che ho aperto il server Discord, troverete tutto nella descrizione. Due, che ho, come potete ben sentire, ho migliorato l'audio grazie alle nuove cuffie con il nuovo microfono. E tre, che quel verso lì, come so rallentatore, era quello che vi spiegavo... nello scorso video. Staffa di Lock... Ma Lock1 non è un... uno youtuber? Ah! Utilizzi tu uno shift sinistro, utilizzi in visita shift destro. Nooo, che figo! Che bello! Nooo, che benessere! Re! Re, mi sa dire che mi hanno andato da solo prima. Ma c'è ancora invisibilità, aspetta. Ok. No. Eh, vabbè. Sì, l'armatura! Piccone e le frecce, soprattutto. Belle le frecce. Mi piacciono le frecce. Qui mi lancia una bella frecciatina. È stata spawnata la... Tua meteoro. Ah! Meteoro. Madonna, che azione! Moriteci tutti malissimo! No! Che fai, tizio! No, ma dai, col danno mi avevano portato su. Dannatemi. Grossi! Sì! Grazie, creeper. Miau! Miau! Eh, ciao. Spero ti piaccia la tua nuova casa da sotto! Eh, vabbè, è morto. Prima ancora di andare nel paradiso sotterraneo. Continuo. E in giù. Dai. Cura! L'antidol tosco, metti a sé che mi dà qualcosa. No, mi dà proprio niente. Forse faceva danno. Vabbè. AAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUU. Pesava se beccava il buco dove si andava giù. Non l'ho fatto a porta, però. Andiamo via questo. Questo cos'è? Indistributibilità, potenza. Non abbiamo incudine, vero? No, ma tanto, chissà, freg. Ho paura. Dai! Ok. Efficienza. Prenderò efficienza. Prenderò efficienza. Non c'è altro. Ok. Oddio! Dov'è? Cosa è successo? Dov'è? No, non c'è qualcosa di l'Ender Pearl. Grazie delle frecciatine. Ma ancora la staffa. Ma che due. Wow, che bello. Facciamo il pillar. Maledetto. Sarebbero hater quelli. Arco del teletrasporto. Ma invece. No! Mannaggia, dove ho il pugno? Io ce l'avevo. Sono un deficiente. Io torno. Io torno. Io torno. Ciao. Ciao. Io non ci sono. Non esiste. Sì, l'armatura. Listo. No, 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 no. Bucco nero, no. Bucco nero, no. Prima. No, è qualcosa di decente, no? Grazie destino che mi ami tanto. Andiamo là. Ho sbagliato un po' qualcosa, forse. Ma non capisco perché. Abbiamo sbagliato così. Ma dai, ho il rigenerazione. Non è giusto. Mi tiro delle frecce. Aiuto. No. Morto? Sì. O almeno dovrebbe. Ma perché? Questa mia distipana. No. Guarda qua. Ah no. Non ci sono. Ehi. Non ci sono. Non ci sono. Non. Facciamoci così Sono morto prima di Alla prossima Sì, schiere! Ti è piaciuta la festa? Ti è piaciuta la festa? Ti è piaciuta la festa? No! Ma io uso la staffa! Conto di te! Brutto individuo! Non distruggerai mica il nucleo? Ok! No! Alla faccia vostra! Ma se l'ho ucciso cosa succede? Vabbè non vuole sotterlo! No! Dai, dai! No! 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 Oddio! No! 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 Wow!